È proprio vero che il primo amore non si scorda mai ed eccola qui di nuovo la Wirex Card, la mia prima carta cripto con la quale nel 2017-2018 avevo iniziato a fare i miei primi acquisti, le mie prime spese in cripto per fare i test e tutto quello che si poteva fare in quel periodo. Wirex torna completamente aggiornata in termini di carta perché passano alla Mastercard da Visa e ritornano con una serie di novità perché per esempio anche il lato fee è stata cancellata quindi la carta è diventata una carta free, almeno il modello standard e vedremo oggi ragazzi tutte quelle che sono le peculiarità di questa carta, qual è il bonus o il cripto back, il loro token il VXT che ci dà una serie di ricompense perché può essere anche messo in saving ma senza fare lo stake quindi è tutto più semplice ragazzi, Wirex torna alla grande e oggi scopriamo vantaggi e svantaggi e per chi è indicata questa carta. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, un video super tutorial, un video dove parliamo anche di adoption delle cripto, di spesa, capacità, possibilità di acquistare le criptovalute attraverso la carta di credito in maniera molto molto semplice e anche la possibilità poi di spendere qualcosina. è stata una cosa fighissima, mi piacciono sempre questo tipo di movimenti, queste, queste diciamo scatole, questi lei diciamo con package che fanno nel settore cripto sono tutti una gran figata ragazzi, devo essere sincero anche quelle delle altre erano proprio belle. Andiamo per gradi, andiamo intanto a capire quello che è il sito in questo caso per esempio di Wirex, è stata eliminata la fee di mantenimento della carta perché qualche anno fa all'inizio te la prendeva un euro al mese, primo fattore positivo per la carta è stata l'eliminazione della spesa, quindi Wirex può essere richiesta gratuitamente, l'account è completamente free ragazzi, quindi non ci sono costi nella richiesta di questa carta cripto, ma non è finita qui perché io ho forzato un po' la mano sono sincero e ho chiesto un bonus, cliccando sul link in descrizione per richiedere la carta avrete free totalmente regalati 15 dollari di token VXT che potete subito spendere tra le altre cose, semplicemente così ragazzi, è semplice, free, 15 dollari, ma li regalano per l'apertura del conto. A differenza delle altre carte cripto, la Wirex card non si basa sullo stake o sul prestare determinate somme per ottenere i servizi, quindi bonus e tutto quello che ne consegue, si basa sul principio dei piani mensili ragazzi, un po' come Carve e come la carta di Revolut. Ci sono tre piani mensili che si possono sottoscrivere, ma il primo è completamente gratuito. Allora andiamo a vedere quelli che sono per esempio i piani in questione, allora qui trovate esternine, ma in Italia ragazzi sono euro ed è la stessa tipologia di somme, quindi non trovate differenze, poi ve lo faccio vedere comunque dall'applicazione. Allora il piano standard che non ha alcun costo ragazzi, quindi ci danno la carta in maniera gratuita, ha anche lo 0.5% di crypto back, uno 0.5% di cashback in pratica su tutti gli acquisti, non quelli però online ragazzi. Quindi considerando che questi sono dei cashback di natura abbastanza standard ragazzi, ci sono anche dei limiti che vi mostro, anzi vi mostro direttamente, perché i limiti per il piano standard sono di 1000 VXT per quanto riguarda il cashback ragazzi. 1000 VXT che in questo momento quota 0,014,48 centesimi, questo significa che se avete il piano standard, il massimo che potete ottenere di cashback in questo caso sono semplicemente 14 euro ragazzi. E' anche vero che in ogni caso con uno 0.5% di cashback ottenere più di questa somma vuol dire utilizzare la carta tantissimo ragazzi, perché stiamo parlando di una spesa oltre i 3000, più o meno, intorno ai 3000 euro, e quindi insomma a quel punto vi converrebbe sicuramente passare agli altri piani. Quindi quando si fanno questo tipo di analisi ragazzi, bisogna andare a capire anche il proprio utilizzo di una carta, perché per esempio il piano premium già da un crypto back dell'1% sia in store che online, mentre il piano elite da un 2% in store e online. C'è un altro dei servizi che bisogna andare a guardare che però è valido solo ed esclusivamente sui piani a pagamento, cioè i servizi relativi al bonus saving, questo bonus ragazzi che viene dato sulla quantità di VXT che voi detenete come cashback e vi viene dato il 4% all'anno se siete premium e il 12% all'anno se siete elite. Il 12% sulla quantità di VXT che vengono mantenuti, che prendiamo dal cashback, ma anche quelli che compriamo semplicemente manteniamo lì, è tantissimo, soprattutto per il fatto che non bisogna bloccarli, non bisogna fare assolutamente niente. Però è anche vero che il piano elite è per chi è un grande spendaccione, cioè per chi utilizza veramente la carta magari a livello anche professionale per fare tante spessi, quindi bisogna un po' livellare tutti quelli che sono questi servizi e i vari pro e contro. Per quanto riguarda il resto è più o meno tutto identico, quindi abbiamo i classici pagamenti limitati per le cripto, poi i no fee ATM per i prelievi fino ai 400 euro in questo caso. Insomma, questi sono servizi abbastanza standard. Ok ragazzi, adesso facciamo una panoramica, vi faccio vedere appunto sul mio iPhone come va a funzionare la Wirex in generale, ho aggiunto qualche centinaio di euro per fare una serie di test e andiamo a guardare quelli che sono tutti i punti favorevoli. Allora questa è la Wirex, intanto ha diversi account che possiamo aggiungere, per esempio qui abbiamo Bitcoin, Ethereum, Stellar, poi abbiamo anche gli account che sono multicurrency, vi faccio vedere se andiamo su gestione degli account, possiamo andare ad aggiungere anche altri conti, che sono conti sia tradizionali in alcune valute, ragazzi, dollaro canadese, corona, sterlina, eccetera, oppure in digitale. Come valute digitali, quindi come cripto, abbiamo Bitcoin, DAI, Ethereum, Nano, Whales, Stellar ed XRP. Queste sono le criptovalute che possono essere aggiunte quindi su questa carta e possono essere utilizzate per essere specie. Un'altra caratteristica della carta Wirex è quella che fa la conversione delle nostre cripto durante il pagamento in maniera automatica. Questa cosa non è molto comune, anzi, prima lo faceva soltanto la carta di Binance, adesso non lo fa neanche più la carta di Binance, lo fa ancora quella di Coinbase con dei costi enormi, ma in questo caso abbiamo Wirex che ci permette di fare la conversione in real-time, real-time conversion al punto di acquisto con zero exchange fee dalle nostre cripto alla valuta che stiamo utilizzando per il pagamento. Quindi in realtà, ragazzi, anche in tutti i posti del mondo possiamo utilizzarla per cambiare le nostre cripto direttamente nella valuta del paese di riferimento. Questa è sicuramente la funzione più interessante di Wirex e sicuramente quella che la contraddistingue da tutte le altre carte. Vi faccio vedere anche, tra le altre cose, sull'applicazione come viene indicata, per esempio, la dicitura. Qui basta andare nella zona carte e poi qui avremo nella zona account e possiamo, in pratica, decidere quelli che sono gli account, per esempio, che vogliamo avere come priorità, che a cui vogliamo dare priorità, per esempio, per il pagamento. In questo caso, ad esempio, io potrei spostare, vedete, Dai al primo posto e dire, ok, prima prelieva da Dai, poi potrei spostare Bitcoin, eccetera. Ma la carta in automatico ci dice questa cosa, ha questa dicitura, quindi automaticamente sceglierà il conto migliore da cui prelevare in base alla valuta in cui sto pagando e ai conti a cui ho dato la priorità. Come si mettono i soldi all'interno della carta Wirex? Si fa attraverso l'utilizzo di una carta di credito oppure di criptovalute. Quindi in questa carta noi possiamo depositare quelle che sono le cripto in questione, ad esempio Bitcoin, Dai, Ethereum, Waves, Nano, oppure possiamo comprare direttamente le criptovalute. Andando semplicemente qui, vedete, ragazzi, io dico, ok, acquistami Bitcoin o collego una nuova carta per fare questo, ragazzi, e quindi posso utilizzare una carta di credito per comprare direttamente le criptovalute qui con Wirex, oppure utilizzo, per esempio, i miei fondi. Sì, allora, le FII non ci sono per l'acquisto delle criptovalute, però ci sono delle FII implicite. Io le chiamo sempre così, ragazzi, cioè il prezzo di Bitcoin che andiamo a pagare, per esempio, è leggermente superiore a quello che troviamo direttamente sul mercato. Questo leggermente superiore io la chiamerei una FII implicita. più o meno, però, è superiore tra lo 0,8% e l'1%. Le carte cripto hanno questa FII, compreso quella di Binance, perché non si vede, ma c'è. Allora, ragazzi, se io dovessi andare a comprare qui un Bitcoin, in questo momento la quotazione mi indica sulla carta di Wirex 47086. Vi faccio vedere, invece, il real time quant'è veramente, cioè è 46,670, cioè ci sono circa 400 dollari di differenza. Allora, questi 400 dollari di differenza sono la cosiddetta commissione implicita che esiste, vi rivedo, in tutte le carte cripto. Come si può ricaricare la carta Wirex? E come la possiamo utilizzare per comprare le criptovalute? Perché, ragazzi, la carta Wirex può essere anche utilizzata per comprare Bitcoin. Allora, come si fa? Ve lo faccio vedere sempre sull'applicazione. Ipotizziamo di voler comprare Bitcoin. Basta andare qui, cliccare la più, possiamo utilizzare gli account che hanno della valuta, in questo caso dai, perché ce n'è uno, zero, uno. Oppure posso collegare una nuova carta. Quindi, oh, collegando una nuova carta, posso in pratica andare a utilizzare Wirex anche per comprare le criptovalute. A questo punto andiamo però a vedere anche un'altra cosa, cioè quali sono queste fee per andare a comprare, per esempio, le criptovalute. Dovrebbero essere intorno al 2%, poi queste cose cambiano, ragazzi, perché a volte fanno delle promo, a volte no. Quindi intorno al 2% per comprare cripto utilizzando la carta, mentre invece per andare a ricaricare l'account con gli euro non ci sono le fee. Bene, andiamo a fare il punto dei pro e contro. Il primo vantaggio, il top dei vantaggi, secondo me, di questa carta è la possibilità di pagare utilizzando le cripto senza fare il top up, il cambio in euro. Quindi in maniera automatica. Questo è uno dei vantaggi principali della carta di Wirex. La carta sia richiedibile in maniera estremamente semplice, non dobbiamo bloccare delle somme, non dobbiamo comprare dei token per avere il cashback, quindi il cashback dello 05, se per un minimo ce lo danno direttamente, anche con il piano free, ragazzi, quindi senza bisogno di andare a bloccare degli investimenti, magari di 2-300 euro, quindi è veloce, istantanea, la spedizione è velocissima, ve la mandano in una settimana circa la carta. L'applicazione è abbastanza semplice, ragazzi, seppur macchinosa da alcuni punti di vista, come ad esempio il cambio di account, una volta che siete dentro e avete smanettato per un poco, riuscite a utilizzarla in maniera molto molto semplice. L'autosicurezza, anche questo, è uno dei pro di Wirex, questo da sempre, è un problema della storia di Wirex, proprio, ragazzi, a volte un po' eccesso, perché non vi fanno entrare nell'applicazione, se sbagliate l'ingresso, per 3 tentativi vi bloccano l'applicazione per 8 minuti. Insomma, l'autosicurezza sicuramente promossa, lato cambio diretto delle cripte in euro, mentre sto pagando, super promossa, perché non risultano carte attualmente che fanno una cosa del genere, c'era prima Binance, ma in questo momento, se non sbaglio, hanno anche bloccato questo servizio. il contro. Allora, il contro principale sono alcuni limiti, per esempio, nell'utilizzo della spesa, il fatto che per avere un cashback rilevante devo andare ad avere un abbonamento, e poi, secondo me, il vero contro di Wirex, almeno così dicono moltissimi, è che l'assistenza ho visto a volte faia, cioè, e vi rispondono con ritardo, eccetera. Questi sono, però, anche dei contro, secondo me, che probabilmente escono fuori anche dal fatto che in questo momento, ragazzi, moltissimi si avvicinano al settore cripto, quindi c'è tanta richiesta di questi servizi, un po' questi tipi di problemi li hanno avuti tutti i servizi cripto, alcuni, per esempio, che ho utilizzato io di Sephy, ragazzi, non mi hanno ancora risposto dopo mesi e mesi, quindi figuriamoci un po'. Questa è la mia recensione per quanto riguarda la carta di Wirex, a chi è indicata, dal mio punto di vista, Wirex è indicata a chi vuole una carta cripto dove poter spendere le proprie criptovalute, quindi non a mo' di investimento nelle cripto, secondo me, e a mo' di spesa delle cripto, ragazzi, quindi Wirex dedicata a chi ha delle criptovalute e le vuole utilizzare per essere spese, quindi le potete detenere, per esempio, nel vostro wallet senza cambiarle in euro, ma avendole a disposizione, quindi potendole spendere, ragazzi, subito, quindi senza dovendole cambiare, perché magari abbiamo un pump della criptovaluta in questione, Bitcoin, Ethereum, poi quelle che sono ovviamente nella carta Wirex, le teniamo per me, la magari ci serviranno fra un mese e poi le spendiamo fra un mese, guadagnando questo piccolo differenziale se i mercati magari ci danno un prezzo migliore. Chi vuole iniziare in questo mondo facendo i primi passi, andate a comprare i primi Bitcoin utilizzandoli con la carta e poi magari a spenderli, ok? That's it! Fatemi sapere invece se voi l'avete utilizzata la carta Wirex, ragazzi, e cosa ne pensate? è la mia prima carta, l'avevo tantissimo tempo fa, è tornata, vedremo come mi troverò. Ciao a tutti!